la sezione di allenamento di oggi pensate un po dura quasi in un'unica soluzione 35 38 minuti continuativi ci sei allora vieni con me pronti a partire da ora via gas aumentiamo stiamo viaggiando a velocità cardiache assolutamente di grande rispetto questo allungo lo faremo sui pedali preparati tra 5 secondi più veloci andiamo in un progetto sperimentale che abbiamo denominato super ritmo project o project o sperimentale come preferisci tu importantissimo amici è il feedback il vostro feedback dopo questa seduta sei pronto? è l'ultima la facciamo via 20 secondi è l'ultima la facciamo via 20 secondi